come quando e perché posso realizzare una veranda con permesso ricostruire o con altri titoli oppure in edilizia libera vetrate ammovibili panoramiche le famose veppa lo scoprite in questo video prima mi devo presentare carlo paglia ingegnero urbanista seguitemi dal canale youtube seguitemi dal canale telegram ovviamente dal canale youtube iscrivetevi alla campanellina e direi anche il mio blog studio tecnico pagliai punto it a cui potete chiedere consulte e pareri materia urbanistica edilizia bene allora io direi ho preparato proprio scalata di argomenti e di articoli che potete trovare appunto sul mio blog sono tantissimi ora devo fare un riassunto ai giorni nostri al 2023 e che appunto si parla di verande tramite anche la chiusura dei balconi ma non solo anche la veranda realizzata chiudendo la loggia porticati io direi di partire dalla regola generale e dai alcune alcune riflessioni che mi sento di condividere perché perché c'è stato un importante cambiamento è quello delle vetrate panoramiche ammovibili eccole qua una modifica che è avvenuta è stata inserita nel testo unico edilizia grazie alla legge 142 2022 e da lì sono state consentite alcune limitate condizionate possibilità di chiudere certi spazi non tutti con le famose vetrate ammovibili panoramiche d'ora in avanti vepa bene e allora io direi di cominciare a fare un breve riassunto e di inquadrare la questione da un punto di vista urbanistico edilizia dai partiamo allora dalla definizione di veranda che è contenuta alla voce 42 dell'allegato a del regolamento edilizio tipo nazionale tra l'altro il link in descrizione trovate un bellissimo video corso gratuito sul regolamento edilizio tipo ok è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato balcone terrazza o portico chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e permeabili parzialmente o totalmente apribili quindi intanto c'è l'elemento chiave superfici vetrate trasparenti apribili in tutto in parte poi vediamo come le vetrate panoramiche ammovibili possano incastrarci o meno qui siamo ancora a una definizione tuttora vigente ma nata prima della modifica portata con le vepa allora la presenza di questo elemento configura un ampliamento volumetrico quindi un aumento di volumetria quindi una un aumento di carico urbanistico di conseguenza lo sapete già di conseguenza permesso di costruire ecco perché il fatto che certe vetrate fossero scorrevoli in passato prima della normativa delle vepa anche l'installazione delle dell'allora vetrate scorrevoli comunque non non cambiava niente obbligava a dover dotarsi di permesso e costruire perché appunto era una un'estensione del fabbricato ok in altre parole qualunque tipo di chiusura anche dei terrazzi dei balconi intendo quelli a sbalzo costituisce creazione superficie o volume aumento di superficie utili aggiungo o aumento di quelli legittimamente autorizzati poi se vogliamo ragionare anche sulla questione della del rapporto di pertinenza lo vediamo prima cosa che mi preme anche per farvi notare intanto la reazione della veranda comporta un nuovo locale autonomamente utilizzabile dice il consiglio di stato il quale viene ad aggregarsi ad unirsi ad un preesistente organismo edilizio perciò solo trasformandolo in quanto sagoma volume superficie altra cosa appunto la tipologia di elementi strutturali per la chiusura del balcone in veranda è irrilevante il materiale concretamente impiegato quindi è inutile difendersi dicendo no ma è materiale astrattamente precario leggero prefabbricato cioè il fatto che siano in vetro metallo laminate di plastica comunque materiali plastiche plastici legno altro materiale comunque non importa perché comunque sia sono tutti elementi e materiali utili a comportare una trasformazione urbanistica edilizia quindi una un intervento edilizio con una certa rilevanza perché perché appunto si va a trasformare una superficie uno spazio e prima era un balcone un portico o altri spazi ed un certo tipo che erano usati a uso accessorio saltuario quando invece mi diventano con la veranda trasformati in spazi a uso permanente c'è chi ci fa la cucina il salotto c'è anche chi ci fa la camera non è proprio un'ipotesi remota a va bene ma è una pertinenza vola leggete qui la realizzazione di una veranda con la chiusura un balcone comporta nuovo volume modifica della sagoma e soggetto ha permesso cosa ci incastra la qualifica di pertinenza qualifica di pertinenza applicabile infatti solo alle opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale quale ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici ma non anche ad opere che dal punto di vista delle dimensioni e funzione si connotano per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali che vuol dire non siano legati direttamente con l'organismo e con l'immobile principale pertanto grande realizzata sulla balconata ad un appartamento in quanto determina una variazione planimo plani volumetrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate sono senza dubbio soggetto a permesso sono infatti strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del banco del balcone in tutto in parte aggiungo con conseguente aumento di volumetria e modifiche prospetto non può assumere importanza o giustificazione rilievo la natura e materiali utilizzati anche realizzate con pannelli vedete qui la giudisprudenza ci conferma che la regola generale della veranda è permesso di costruire non non è qualificabile neanche come pertinenza di conseguenza non è qualificabile neanche come intervento pertinenziale ora lasciamo perdere le norme regionali lo so che c'è una regione mi sembra sia la sicilia che ammette la realizzazione di verande con la scila questo però le norme regionali lo sapete e spesso fanno scelte birichine passatemi il termine o un po diverse dal testo unico quindi norme regionali le mettiamo da una parte di nuovo la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda non costituisce una pertinenza in senso urbanistico veranda integra infatti un nuovo locale autonomamente autorizzabile che viene ad aggregarsi ad un persistente organismo edilizio e perciò trasformandolo in termini di sagoma superficie vedete che la giurisprudenza amministrativa non cambia in nessun modo orientamento poi ecco perché la regola generale la nozione di costruzione ai fini del rilascio della concessione edilizia permesso di costruire si configura in presenza di opere che attuano una trasformazione urbanistica edilizia e territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi a prescindere dal fatto che avvenga tramite opere murare quindi anche il fatto di dire no ma io non uso il cemento armato lo so strutture più pesanti non vuol di nulla cioè è inutile che le opere siano realizzate con materiali modesti e anche se ciò avviene con superficie vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili parzialmente totalmente apribili quindi come vedete il consiglio di stato la giurisprudenza non cambia orientamento anche se possano apparire precari e allora va bene ecco che arriviamo al colpo di genio vale a dire chiusura integrale con sistema telonato con tenda anche motorizzata di nuovo il consiglio di stato ha detto no se se c'è un elemento chiuso e se vado a chiuderlo con l'azione combinata della vetrata delle tende motorizzate si va a creare un nuovo vano ed è idonea generare una maggiore superficie lorda e volumetria in più si altera la sagoma dell'edificio e gli aggiungo anche prospetti e allora si lo dice anche il consiglio di stato eccolo qua ma di recente 2022 ma non cambia l'orientamento in altre parole ogni volta si va a chiudere uno spazio d'aria eccolo qua il concetto finalmente qui ci vuole bisogna mettere la massima attenzione tu chiudi l'aria e tu e soprattutto la chiudi dall'alto anche la tettoia quattro pali è un elemento di copertura mi fa costruzione nella stragrandissima maggioranza dei casi voglio dire sempre dai mi sbilancio però capite bene che tu chiudi l'aria la chiudi ai lati e la chiudi anche di sopra quello fa volume concetto è tutto qui ok quindi solamente tende per go tende sono sottratte dai regime del permesso di costruire ma perché quando sono davvero finalizzata la protezione dal sole o dai agenti ma agenti atmosferici e configurano un arredo funzionale per utilizzare lo spazio esterno all'unità immobiliare ora vi devo dire questo la per go tenda e le tende sono liberi su tutte e quattro lati o comunque sono liberi almeno su tre lati e soprattutto devono essere anche retrattili nel momento in cui si cominciano a lasciarle fisse vi spiego cosa succede ad esempio no tuttavia le tende motorizzate da un lato non svolgono soltanto una funzione di riparo dal sole dagli agenti atmosferici ma sendo installate su un solaio del balcone e consentendo di raggiungere il pavimento quindi sono quelle che fanno così cioè sono quelle che fanno vanno proprio a chiudere ad avvolgere uno spazio e quindi lo chiudano per l'intera altezza la porzione di un balcone compresa tra pilastri il muro dall'altro svolgano una funzione combinata con la vetrata assicurando in questo modo attraverso l'utilizzo integrato della vetrata della tenda la possibilità di chiudere in ogni lato e balcone quindi diciamo che non è proprio ottimale e alla fine si va si ottiene lo stesso risultato invece con le vetrate fisse lo faccio con elementi telonati si sta esagerando e quindi si sconfina e diventa manufatto volume costruzione va bene io faccio una chiusura parziale e lascio un lato o un elemento aperto quindi ipotizziamo il classico balcone per balcone intendiamo quelli a sbalzo a gettanti e il terrazzo invece è il tetto piano il lastrico solare come definizione poi genere si dice terrazzo terrazza si interscambiano ok sulle balcone un vetrate fisse si lascia libero un lato è un classico balcone agentante a sbalzo con tre lati ok dove sono stati chiusi un laterale a un frontale alcune di solito e a sbalzo ha pertanto i tre parapetti no io ne chiudo uno ne chiudo due e le lascio un terzo libero è vero il balcone conserva le caratteristiche fondamentali in quanto opere eseguite mantengono apertura su almeno un lato quindi metterebbero in discussione principi che abbiamo letto prima e l'intervento comporterebbe modifiche prospetto a ciò si deve aggiungere pure la questione del rispetto del decoro architettonico degli edifici in regime condominiale quindi ok potrei fare una chiusura parziale sì ma mi fai comunque la modifica di prospetto dell'edificio e soprattutto non è una modifica prospetto difficile giustificarla come una manutenzione straordinaria in scia perché manutenzione pesante difficilino in più ripeto difficile e guardate anche i regolamenti edilizi regionali cosa dicono difficile dire e non fa volume quella roba però vabbè facciamo finta che non faccia volume lordo intendo ma che faccia volume accessorio mi rimane comunque il problema degli aspetti di modifica di prospetto perché c'è e poi va bene abbiamo la possibilità di chiudere il balcone con le vepa cos'è successo è arrivata questa legge e ora veramente entriamo in quella che è l'eccezione molto limitata è veramente prendetela con tante molle eccezione conferma la regola prima di andare avanti però potete mettere un bellissimo like potete cliccare qui sulla campanellina che male non fa potete condividere questo video e soprattutto potete girarlo anche sui vari social che vedete qua quindi mi trovate anche a me su facebook linkedin instagram e sul mio blog ok studio tecnico pagliaiai punto it bene ritorniamo allora qual è l'eccezione che conferma la regola le vepa intanto cosa sono sono vetrate panoramiche ammovibile totalmente trasparenti sono panoramiche vuol dire che sono trasparenti sono ammovibili ora il concetto di ammovibilità non è molto molto ben chiaro nel nostro ordinamento normativo ok ora mi viene da dire comunque teniamo sempre presente due elementi due condizioni devono essere ammovibili devono essere trasparenti quindi niente vetri satinati offuscati e robe simili ammovibili e qui è un concetto spesso e conosciamo per le pergole pegazebi cioè non devono essere fisse fisse a qualcosa al suolo ai pavimenti ai solai ma devono essere facilmente rimovibili e qui possiamo parlare all'infinito che cosa vuol dire a io le faccio scorrevoli avete su quei binari su quei profilini che hanno l'anima a 1 oppure c'hanno le scerniere ma ci sono diversi tipi ecco perché appunto bisogna che siano scorrevoli e anche ammovibili sganciabili soprattutto non solo scorrevoli ma che siano anche facilmente proprio staccabili le metto da una parte ce ne posso rimettere facilmente da solo ok altrimenti se non sono di questo tipo molto probabilmente sconfinate nella veranda classica quella con le vetrate fisse cioè possono essere vi possono contestare che comunque avete fatto un ampliamento volumetrico soggetto a permesso e pertanto reato edilizio per il fatto che non non siano configurabili come pepa poi uno può anche dire mai ci metto quella soffietto ci metto altri tipi quella pacchetto come come si chiamano le vepa nel testo unico edilizia hanno espressamente una finalità è un ambito d'applicazione lo dice proprio la norma intanto va bene le tratte panoramiche quindi lo scopo non è chiudersi dall'esterno cioè mantenere anche una visione del paesaggio dico io però la norma dice anche e devono avere una funzione per protezione da agenti atmosferici un miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche ora sono scorrevoli e non devono essere fisse io non so quanto possano essere utili almeno per l'isolamento acustico zone trafficate poi basta un forellino d'aria il rumore passa è una meraviglia quindi ma legislatore ha scritto così e va bene ed energetiche per cominciare a ragionare di prestazione miglioramento energetico bisogna amiciare a ragionare di elementi vetrate di un certo tipo e qui mi devo fermare perché veramente diventa lungo discorso oppure la riduzione delle dispersioni termiche di nuovo stesso discorso parziale impermeabilizzazione delle acque dalle acque meteoriche quindi lo scopo la giustificazione per cui si possono mettere le vepa e quindi non creare una veranda è anche questa dove le possiamo installare o qui la norma è chiarissima possiamo installare sui balconi aggettanti dall'edificio quindi il balcone a sbalzo o loggie rientrante all'interno dell'edificio per l'oggi intendiamo che gli spazi che sono voi immaginate proprio la parete dell'edificio la sagoma l'involucro e ho proprio una parte rientrante un vuoto e io le metto a filo facciata per esempio solo voi solo questi due casi possano accettare questo tipo di intervento e qualificarlo come installazione libera cioè ciò che è libera l'installazione delle vetrate non di tutto il baldacchino in telaiature fisse quelle no sono le vetrate scorrevoli ad essere libere non altre cose e questo è deve essere molto ma molto chiaro quindi balconi aggettanti e loggie rientranti solo lì se avete un tetto piano lastrico solare dir si voglia oppure un portico a terra e no non le puoi mettere cioè metti le vepa ma è un problemino è un po veramente un problemino questa cosa perché anche qui loggie rientranti all'interno dell'edificio non loggie in generale a solo un certo tipo di loggie ricordatevelo questo ovviamente l'edificio deve avere destinazione d'uso residenziale quanto nella parte finale della norma viene espressamente tutelata la salubrità degli spazi abitativi interni quindi la vedo male su un capannone industriale questo tipo di soluzione è passata mi alla battuta dove non installare o la norma mi ha detto dove possa installarla balcone loggie interne edifici significa che sono escluse tutte le altre ipotesi vi faccio un esempio su pergole e pergolati parte fatto e pergola pergolato l'abbiamo detto anche nei video precedenti mi ci deve piovere da sopra perché la pergola solo una funzione di sostegno dei rampicanti appunto per scopo ombreggiante basta non altre funzioni il gazebo uguale gazebo uno di quegli elementi arredo da giardino quattro paletti una tenda ci faccio la festa e compleanno al figlio e alla fine al tramonto la chiude la rimetto un cantina è non un hangar è questo ci tengo a precisarlo terrazzo elastico solare oppure in giardino di nuovo non è ammissibile questo tipo di intervento giardino ma è finito qui ma dovrebbe andare in un punto a capo di nuovo portico e porticato è una definizione ben distinta dalla loggia è un'altra cosa il portico e porticato rispetto dalla loggia cioè siamo all'interno il testo unico il legislatore per loggia sa bene di cosa si parla vi invito di nuovo a leggere vi devo rinviare per brevità al regolamento edilizio tipo quindi non c'è possibilità di farsi la veranda in maniera furbesca dove ci pare o la famosa pergola bioclimatica cioè quel manufatto che ha un elemento di copertura anche con dei sistemi con le alette chiudibili agganciabili con alette a pacchetto non viste retrattili e ce n'è di mille tipi e chiudersi appunto con le vetrate d'intorno perché poi tanto la dovete climatizzare se no d'estate ci arrostite e d'inverno ci morite di freddo quello è un volume ci vuole il permesso di costruire non c'è altre soluzioni idem per quanto si tratta dei de orse anche de orse non sono in edilizia libera se no lo trovereste nel glossario sta roba e lo trovereste nell'articolo 6 del testo unico invece non c'è vuol dire che non si può fare ci sono delle condizioni da rispettare che il testo unico mi impone sulle verba e lo vediamo tra l'altro comunque sulle verba ho fatto e vi rimetto un approfondimento qui nel link in descrizione prima di andare avanti un altro like moment potete tranquillamente mettere il like e la campanellina così riceverete per avvisi dei miei nuovi contenuti video quali sono le condizioni da rispettare per questo tipo di vetrate la norma mi dice che deve rispettare diverse condizioni e precisazioni intanto per evitare fraintendimenti e quindi le VEPA non devono configurare uno spazio stabilmente chiuso comportante variazione di volume e quindi aumento di volume e di superficie delle unità immobiliari edifici e quindi riferimento è appunto al regolamento edilizio tipo quindi spazio apribile o aperto è ovviamente lo spazio deve essere apribile infatti sono vetrate anoramiche ammovibili il fatto siano ammovibili appunto devono essere facilmente ammovibili cioè si possano posizionare e si possano togliere e ritengo anche muovere vanno bene riferrei vanno bene quelle quelle scorrevoli su binario non devono queste VEPA creare nuova volumetria a parte fatto a me mi sembra una definizione un doppione no di quello è stato detto prima e quindi voi mi direte allora dov'è la soluzione temo che la soluzione qui c'è una sorta di cortocircuito faccia riferimento alle definizioni regolamento edilizio tipo ma siamo un po costretta ad andare a vedere cosa dice il regolamento edilizio tipo regionale che è stato recepito praticamente in tutte le regioni a questi punti non so se ne manca qualcuna e infine anche regolamento edilizio comunale per cui è un rompicapo e ve lo dico senza dubbio non devono configurare cambio destinazione d'uso dell'immobile da superficie accessoria superficie utile ora questo vuol dire che non lo devo usare come spazio di permanenza umana e qui invece è molto chiaro cioè la definizione di superficie accessoria e superficie utile vera e propria la troviamo tranquillamente nel regolamento edilizio tipo lo troviamo a maggior ragione nelle versioni regionali quindi se la vostra idea è farvi una veranda furbesca tramite le vepa e ficcarci una cucina un salotto uno spazio dove comunque è previsto anche un ufficio dove intendete starci e usarlo dalla mattina alla sera con la permanenza la persona ahimè il legislatore ha detto no non va bene chiaro che noi per ora abbiamo fatto riferimento soltanto alla disciplina edilizia urbanistica per e propria quella che ci porta a confrontare con il comune non parliamo ora in in questo ambito di quella antisismica deve la paesaggistica di tutti gli aspetti vincolistici ad esempio e comunque trovate trattati in apposito approfondimento che vedete ma piuttosto mi viene da dirvi occhio perché c'è un altro aspetto che mi preme farvi presente anche questo ve lo metto il link in descrizione quando spesso abbiamo a che fare con i condomini e con le verande abusive ma anche con senza il fatto che sia ancora costruita abusiva per cui ho intenzione di realizzarla e fa volume la veranda quindi ora non parliamo più di vepa voglio fare una veranda vera la v maiuscola vetrate fisse la voglia chiudere ci voglio fare un salottino bene ma quando ho a che fare con un condominio se la veranda visto che fa volume mi obbliga a fare la verifica dei parametri degli indici volumetrici della volumetria riferita all'edificio e quindi al lotto e ho capito ma il lotto dell'edificio non è tutto mio condomino è di tutto il fabbricato chi è che ha diritto a costruire che ne so quei 30 metri cubi in più ammissibili oggi dal piano regolatore non solo se signora marcella al quarto piano ma tutto il condominio quindi nasce un problema gigantesco anche per sanare regolarizzare le verande già fatte e per costruire quelle ex novo è un enorme problema un condominio perché ripeto dovete fare la verifica generale di tutti i parametri tra edificio inteso tutto il condominio quindi già questo lavorone riferito ai parametri e alle superfici caratteristiche del lotto ora la veranda come ho già detto se fa volume e fa volume è una costruzione è un ampliamente soggetto a permesso deve anche rispettare le distanze legali quindi le distanze da confini e distanze tra costruzioni non è proprio tanto semplice come manufatto è bisogno fare la dovuta attenzione ora ci tengo a dirvi i riferimenti che abbiamo detto prima ma quando abbiamo a che fare con la una configurazione condominiale è un problemone veramente bene vi lascio anche riferimenti di questo articolo dove vi spiego come comunque verificare la volumetria residuale sul lotto di pertinenza dell'edificio condominiale e anche per sanare quindi per verificare sanatoria edilizia ad una veranda in ambito condominale e vi rimetto anche tutti i riferimenti degli aspetti strutturali antisismici perché comunque sia la veranda vediamo poi se le norme regionali l'hanno indicata inserita tra le opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità magari hanno messo limiti dimensionali caratteristiche bisognerà consultare quelli però questo è per dire che dovete verificare tante normative speciali e di settore e ovviamente vi dovete appoggiare a tecnici di vostra fiducia e allora direi iniziamo a farci saluti spero che questo video vi sia stato veramente utile potete mettere un like potete iscrivervi al canale telegram potete seguirmi da linkedin facebook e gli potete seguirmi anche iscrivendovi al canale youtube ok e c'è la campanellina qua sotto mi raccomando non mancate e ci diamo appuntamento ai prossimi video premier live contenuti e potete trovare su tutti i miei vari social ciao a tutti da carlo pagliai